guardati un po' intorno passo passo ma come passi? dai figlio non metti l'imbarazzo esatto esatto non mettevano l'imbarazzo quindi con quale faresti una cosa a 4? no c'erano loro due con mvdm scusami non mi ricordo ok a proposito te con quale tipi faresti una cosa a 3? ma dei presenti delle presenti tutto vabbè due ragazze direi direi è imbarazzante però si allora c'è è più fighe la ragazza di cui non so il nome di colore ah ok e la ragazza seduta in mezzo a voi ah Melanie ho scelto bene non lo so zio io mi astengo tu invece a posto ho rotto un bicchiere non grazie noi ne vediamo invece con chi faresti una cosa a 3? no amore ok Tommy e Pat a posto te con chi faresti invece una cosa a 3? allora così l'ha detto lui perché prendo spunto non si sa mai no no due ragazze due ragazze due ragazze vedete maschi non due ragazzi due maschi due ragazze due ragazze due ragazze zi perché ti stavi guardando davanti cioè loro due a posto vuoi due invece con chi fareste una cosa a 3? stiamo in 4 ok a una lunga ok a 4 con Lele no si Lele e Tommy si ok invece una cosa a 3? no non la vogliamo no vabbè ok se ne dovresti scegliere una in coppia ho 4 o nulla ho 4 o nulla? ok ci sta scusami devo distrubbare la conversazione con chi faresti una cosa a 3 qua dentro? no 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 ok grandissima la risposta? eh? una risposta logica maschi ovvero poi te la pongo così chi sono i più carini? i due? buono mi ho visto in voce nessuno a posto mi piacciono i vecchi non i ti piacciono i vecchi? ah tipo che ha? dai 40 in su dai 30 in su? dai 30 in su ah Pietro Pietro te quanto hai? 27 no? te hai 27 anni? ah a lei piacciono dai 30 in su quindi ancora 3 anni 31 allora stessa medesima domanda con me lani e le aressia ok escludendo le femmine escludendo le femmine nessuno perché ti piacciono le femmine mi piacciono le femmine oh ma porca troia mi fanno incazzare un botto se non rispondi Pietro mi incazzo un botto non so proprio i nomi mi dispiace casi di caravane che sta facendo troppi conto va bene dai Tommy e Teo vai non c'è nomi ditemi i nomi indicalo indicalo e basta ah non lo so non lo so sincero vai a buffo cioè ma posso scelere anche una femmina? no maschio solo maschio è la prima volta nella storia del canale che in una preferenza d'estetica a due a tre a uno non vi aveva messo Lele per primo cioè è la prima volta in quattro mesi quindi bene grazie mille è la prima volta che non vi ha scelto Lele chi è Lele? Lele è il ragazzo del cappellino lei non sapeva chi è Lele quindi chi? Lele ero due Pietro e Lele? oh Pietro voi siete dei porchi bastardi gemello con le gemelle? ok ora vi vado a chiedere se lo farebbero con te te zi? gemelle gemelle? aspetta vado a chiedere una cosa allora loro due vorrebbero scopare le gemelle quindi andiamo a chiedere a confermare questa cosa scusate un attimo vi trupo la vostra conversazione probabilmente curiosissima no tranquillo i due tipi laggiù vedete chi? ma non vado i due porchi laggiù hanno detto con chi fareste una cosa a tre no no e entrambi hanno più scopare e entrambi hanno chiesto hanno detto voi due quindi una cosa a quattro voi accettereste una cosa a quattro con loro? mi sembrano tanto piccoli sai quanti anni avete? che anno siete? 21 eh loro 24 24 siamo sicuri non vi piacciono i più piccoli? no ok quindi sono quelli più grandi si 24 loro hanno 24 anni eh non mi sembra vabbè sì o no? no no e 24 non sono 24 noi abbiamo già detto abbiamo già espresso la nostra conferenza hanno detto sì hanno detto sì se non facciamo pace non viene a Londra ah perché può entrare a Londra può entrare a Londra non ne piacciono? chi? zì allora io ho chiesto ho preso una sattrilla ha detto con te e Lele cosa scusa? stai zitto hai fatto i cazzi ai tuoi? no dillo ha detto un ipotetico caso è serio lavoriamo tutta la sera finché a lei allora noi siamo perfetti per fare una sattrilla perché entrambi hanno voglia hanno pochissimo hanno un pozzo piccolo molto piccolo sì purtroppo sì è tipo il turismo peggiore che può fare una nonna bro ma tipo sai vuol dire tipo dimmi se è venuto da Londra così tipo così no no ma non ti ho detto però non abbiamo questa celeste e neanche a Melanie ti odio che non ho ancora di entrare a Londra così tu devi stare zitto allora celeste celeste scusami non c'hai voglia no che cazzo se ne fotte con chi fareste una cosa a tre dei presenti nessuna oltre a Lele intendo oltre a Lele chi? Melanie ok a parte queste banalissime sono Melanie con Lele e Pietro hai detto a posto te Melanie cosa? con chi fareste una cosa a te dei presenti lo sni pacchi sti cazzi non stavo dicendo pacchi no escludendo pacchi io farei una cosa a tre con banalissime celeste e angeli comunque le ragazze sono tutte così simpatiche i ragazzi vincoli ok altra domanda chi sono i due più carini allora Lele e Tommy ok farebbe una cosa a tre con Lele e Tommy quindi ma assoluto non ha detto questo non ha detto questo sì l'ha detto l'ha detto perché ero più vicino a lei bro perché ero più vicino a lei di quello che si stava creando grazie Vita lei Vita lei Vita lei te con chi fai te una cosa a tre io con la la signorina la signorina in chi? celeste? no qua la bene bene no no la camerina ah lei la signora qua ok ma hai fatto no serio hai fatto la spagata serio con chi la faresti zi? sincero Tommy e Lele Tommy e Lele dimmi che allora una volta che mi vengono andata Melanie Melanie tu hai un peso sulle spalle perché Pacchi è stato qua è stato qua prima di te lui è riuscito alla rivista 4 mentre a Milano ma non è 4 tiro ma non è 4 tiro ma perché devi mentire? tu pensi che lo supererai? che cazzo ha detto? ha detto non lo dico qua ovviamente è una cazzata straordinissima ovviamente scusate c'è Angelica che mi deve parlare dei rapper che so dai il telefono vieni Angelo ha sbroccato ha sbroccato hai sbroccato? salcimi salmone ma che c'ha? io ah io mi fate mangiare un cazzo di salmone perché non l'ho mangiato tanto da un saccivi ti prego grazie mi neanche a mangiare un saccivi non lo non volevo tantissimo mi neanche a mangiare un saccivi tieni ok io sei un pezzo di merda per fortuna che ne vengono al journal can't ma ce l'este? ma ascoltate una cosa ma se fa la fate o no sta cosa a tre cioè non ho capito ma con la tipa là ah ho capito ah quindi capite? nel caso ci faccio un eye contact di qualche minuto ma guarda Tommy mi senti stanno tantissimo non ho capito? io la sto bene in giro per fare le sue morale bisogna sempre da un anno la foto io lo faccio qui non mi smette a ridere non lo so oggi non funziona io a posto perché lei la guarda così? con chi? ok se Melanie non alza la voce se Melanie non alza voce cosa facciamo? ma dici Melanie la chupa che sta parlando a questo tono ha rivolgito tutto il tempo comunque sei un botto incazzato anche dal vivo è un botto incazzato è un botto incazzato è un botto incazzato ma io sento della musica quindi ci sono delle casse se chiedevano di mettere show you off è una sorpresa è una sorpresa vabbè dai andiamo a casa ok a lei ho una domanda particolare puoi anche dirmi no e dire io non ho anche trovato io sono una domanda no 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 solo una domanda no no io non vuoi no 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 sta ripetendo solo me solo me solo me giuro c'è la musica sento si può mettere una canzone posso chiederti una canzone da mettere non possiamo grazie ci ho provato madonna che delusione che delusione antifaticissima mamma mia che scorbutica proprio scorbutica irrequieta mamma mia bellissimo io grazie che begli occhi ha ringraziato la live no si stanno smuovendo le acque c'è una calamita che le attrae tutte meno che le attrae tutte rimane che le attrae tutte